Arrivano devastati psicologicamente, noi con tanto amore, con tanta fatica, riusciamo a fare veramente, lo dico e l'ho già detto, dei miracoli. Loro sono gli Angeli di Sarabanda, un gruppo formato da volontari e rettini che donano una seconda vita agli amici a quattro zampe abbandonati di Palermo. Tutto è nato da Sara Giovane Amstaff trovata morente su marciapiede palermitano. Per aiutarla era stato creato un gruppo Facebook. Sara, una volta ad Arezzo, è stata recuperata fisicamente e psicologicamente per poi essere affidata ad una famiglia. Dopo averla fatta adottare ci siamo appassionati alla razza, volevamo cercare di salvarne altri. I volontari di Sarabanda, che si definiscono veri e propri padrini e madrine, grazie alle indicazioni dei volontari del canile palermitano, si prendono cura così di cani maltrattati o che versano in condizioni critiche, quasi sempre di razza molossoide. Quando arrivano su sono tutti cani molto chiusi, preoccupati e quindi tu li inserisci, li rinserisci, piano piano, vedi come vanno e vedi che cane che si sblocca in automatico da solo. Perché dentro ce l'hanno quella socievolezza, dentro ce l'hanno quella voglia di vivere, di tornare a vivere felici e sereni. In un anno ad Arezzo sono arrivati otto cani che oggi hanno trovato una famiglia. Quando è il momento dell'appello lo mettiamo in rete, troviamo la famiglia, la famiglia ci contatta, noi mandiamo un modulo. Quando abbiamo verificato che la situazione è idonea, la famiglia viene, prende il cane, in genere si fa due o tre incontri, prende il cane e lo porta a casa e noi lo seguiamo sempre. I cani recuperati grazie all'impegno di Sarabanda si trovano adesso felicemente a Cesena, Firenze, Arezzo e Brescia. Siamo conosciuti in tutta Italia ma ad Arezzo non tanto, infatti i cani sono spesso stati adottati al nord, Cesena, Rimini, quindi proprio per questo vorremmo che gli aretini ci conoscessero, sapessero cosa facciamo in Sarabanda e magari se vogliono venire a trovarci che qualche cagnolino palermitano rimanga qui ad Arezzo. Il progetto Sarabanda è nato anche grazie alla collaborazione attiva tra realtà aretine. Tutti noi che comunque viviamo nel mondo della cinofilia, anche se in settori diversi, ma comunque abbiamo le possibilità sul piano delle strutture solide, reali, di poter dare una mano a certe situazioni difficili, è quasi un dovere.